bentornati ora che cosa dirvi di questa cavalleria e pagliacci che ha aperto ieri sera alla scala è stato un bello spettacolo che però a me sembra che sia la perfetta rappresentazione e la perfetta esemplificazione di un certo tipo di far del teatro di oggi del teatro d'opera di oggi nella fattispecie ossia ho assistito a un bello spettacolo un buono spettacolo niente che non si veda in un qualunque buon teatro tedesco francese o austriaco cioè io forse sono un po prevenuto in positivo ma ogni volta che vado in scala io mi aspetto sempre di vedere uno spettacolo che mi ricorderò per tutte le vite spettacolo ieri sera è stato un buono spettacolo non me lo ricorderò per tutta la vita e non credo neanche il resto del pubblico se lo ricorderà per tutta la vita da un lato per l'allestimento dello spettacolo e ne parlo tra poco e dall'altro lato per i cantanti nel senso ormai è cosa risaputa e nota che i teatri debbano fare i conti anche teatri grossi con scambi con sponsorizzazioni con collaborazioni con altri teatri agenzie che impongono i cantanti per cui dicono vuoi questo qua va bene però riprenderà anche questo qua quest'altro e vabbè e insomma fa parte del mondo di oggi però al netto di questo io credo che una volta in scala si potesse ascoltare le migliori voci del mondo oggi in scala si possono ascoltare le voci più famose del mondo che non necessariamente sono sempre le migliori nel senso che io ripeto da uno spettacolo visto in scala cioè nel teatro opera più importante del mondo quanto meno più blasonato non so in effetti se più importante ma sicuramente più blasonato mi auguro e mi auspico e auspico sempre di trovare dei cantanti di un livello altissimo invece anche ieri sera con qualche eccezione che adesso vi racconterò ho visto un buon cast fatto da ottimi professionisti però ripeto niente di diverso da quello che avrei potuto vedere in un opera house in germania o in austria o in ungheria allora partiamo dall'allestimento dalla regia la regia di mario martone ripresa da federica stefani siamo nella situazione in cui credo di averlo già detto in un altro video quando un regista non distrugge completamente un'opera la regia ci piace perché alla fin fine ha come dire contenuto i danni questa è un po l'impressione che ho avuto della regia dell'allestimento di ieri sera che è stato apprezzato dal pubblico questa cosa va detta sì c'è stato qualche bu ma insomma ma alla fin fine oggi un regista che non porta a casa qualche bu è come uno youtuber che non ha qualche hater non sai nessuno nel complesso a donno del vero la regia è stata apprezzata dal pubblico e questo va detto per per dovere di cronaca ma a me la regia non è che che mi abbia fatto impazzire allora di capo del resto è stata fatta una regia abbastanza tradizionale molto statica molto statica col coro seduto su delle sedie praticamente per tutta la prima parte tipo al cinema cavalleria è un'opera in cui ci sono degli snodi narrativi obbligati la parte della pasqua salve regina insomma sono queste grandi scene corali che secondo me un regista non deve ammazzarsi per fare una cosa interessante che possa ben figurare la regia ieri sera di cavalleria è stata francamente molto statica e molto noiosa quindi non non mi è piaciuta nel complesso quantomeno ecco non ha distrutto l'opera ecco sia l'energia abbastanza tradizionale però secondo me un regista dell'importanza del calibro di martone insomma un qualcosina in più forse lo poteva fare pagliacci la regina invece è stata molto più interessante molto più viva molto più movimentata anche è stata più attuali più attualizzata rispetto a cavalleria con delle macchine in scena con delle roulotte però questa cosa come ho detto altre volte non mi non mi sconvolge più di tanto come sempre come sempre dico quello che mi crea problemi è quando la parola fa pugni con la scena esempio uno dei tanti esempi quando tonio viene invitato all'osteria ma lui per fermarsi con nedda dice vi raggiungo dopo io ho netto il somarello se invece di un somarello tonio come in quel caso sta pulendo un for transit capite che c'è un contrasto tra quello che dice e quello che fa e quella cosa lì mi interrompe la finzione scenica mi interrompe la sospensione dell'incredulità mi interrompe ecco una serie di altre cose insomma che non dico per decenza oppure quando c'è la scena in cui da libretto tonio dovrebbe aiutare nedda scendere dal carretto canio glielo impedisce con un ceffone al che tonio si risente infatti dice me la pagherai se questa scena non c'è dico non dico che deve esserci il carretto vuoi metterci la ruota metteci la ruota ma il ceffone ci deve essere perché no perché se no non si capisce perché mai tonio si è arrabbiato con canio me la pagherai de che o altra cosa quando tonio ci prova in maniera anche abbastanza aggressiva con nedda lei gli dà una frustata in faccia e lui quindi si arrabbia e le giura vendetta se lei non le dà la frustata in faccia se lei aveva in mano una specie di cinghia ma insomma non gli ha dato una frustata in faccia cioè specifico e finzione scenica non c'è bisogno di dargliela veramente cioè basta il gesto basta una frusta di plastica non dobbiamo ammazzare il cantante però l'atto della frustata in faccia in faccia sul corpo diamogli un calcio nei genitali insomma ma qualcosa ci deve essere che faccia scaturire la vendetta di tonio nei confronti di di nedda perché solo per il rifiuto è un po blanda come 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 giustificazione oppure quando canio sorprende nedda e silvio e silvio va via con la macchina e canio dice vile tascondi cercandolo non si capisce bene dove quello si è andato via con la macchina proprio salite in macchina si è andato via quella battuta lì vile tascondi non ha nessun senso ha un senso invece come l'ha pensato quello sconsiderato di leoncavallo in cui silvio si nasconde un po fugge un po nel buio un po nella boscaglia in quel senso la frase vile tascondi ha un suo significato e una sua funzione oppure lo so in cavalleria la scena tra finale tra alfio e turid dovrebbe essere fatta abbastanza in solitaria perché se se la fanno in presenza di tutto il coro perché poi il coro si stupisce quando si scopre che turid è stato ammazzato non lo so non c'è una una ragione particolarmente credibile secondo me però magari mi magari mi sbaglio nessuno per cui insomma va bene ne ho viste decisamente di peggiori di regie non mi ricorderò questo qua negli annali però ripeto l'appuntista del pubblico è stata abbastanza apprezzata discorso castellina garancia interpretava santuzza a me piace dire come canta lei so che spesso lei è abbastanza è abbastanza criticata ma va tutti li lo criticati quindi ci mancherebbe pure però che ieri abbia cantato bene ha avuto un ottimo riscontro di pubblico questo questo va detto assolutamente e secondo me ha saputo ben rappresentare il personaggio di santuzza è presente che lei oltre a una brava cantante anche un'ottima attrice e per esempio nel a tela ma la pasqua sper giuro ho avuto un brivido l'unico brivido della serata l'ho avuto in quel in quel momento lì e quindi questo vuol dire una capacità attoriale oltre che una bella voce sono poi lei è brava insomma ha un'ottima edizione io di sciocchezza ma sono decisamente decisamente cose trascurabili insomma per cui nel complesso direi assolutamente promossa turiddu brian jagd ragazzotto americano anche un bel ragazzo con una buona voce ha fatto il suo lavoro come dicevo di lui e di diversi altri un po la presentazione del di quello che è il mercato di oggi e quindi io sono convinto che di voci più belle della sua ne ho sentite tante ha fatto bene il suo lavoro anche se per esempio nel nell'inizio di di cavalleria nella serenata a lola parte qualcosa di accento siciliano che era abbastanza discutibile però beh forse da un americano non lo si può pretendere però mancava completamente la disperazione e la passione in quel in quel brano vocalmente c'è stato stato assolutamente all'altezza all'altezza del ruolo però non mi ha comunicato niente di particolarmente di particolarmente forte ecco a suo piccolo parziale a sua piccola parziale discolpa possiamo dire che l'arpa all'inizio non so che gli è preso ha sbagliato clamorosamente un paio di un paio di accordi e queste cose francamente mi lasciano molto perplesso quando in un teatro di questo livello con musicisti di questo livello succedono questi episodi però nel cielo il l'errore è umano ed è dietro l'angolo e può succedere a tutti insomma però io credo che o no la caidilatti la camisa per un arpista sia come la stranata walstein o il chiaro di luna per un pianista è una cosa che si sa insomma che dovrebbe si dovrebbe suonare anche se svegliate all'impreviso alle tre di notte però tanto è stato così come non ho capito per esempio alla fine del brindisi perché dopo la chiusa il direttore turido sia rimasto un po con una coda e code sono sempre fastidioso sempre brutte a me lo che non si è voluta però insomma se è voluta non l'ho apprezzata armatushin enkbat ha interpretato sia il ruolo di alfio che quello di di tonio in pagliacci l'unico che ha fatto entrambe le entrambe le opere e per lui va lo stesso discorso di jagd cioè un solido professionista una bella voce anche lui molto apprezzato dal pubblico che però io vocalmente ho trovato assolutamente a posto ma non mi ha trasmesso particolari emozioni e anche dal punto di vista scenico e attoriale ma sono così così non l'ho trovato francamente trascinante jagd devo dire invece si è mosso molto molto bene in scena perché poi considerate una cosa vale anche poi per quello che dirò per silvio per silvio i movimenti si sono i movimenti dei cantanti sono sì stabiliti dal dal regista ma i movimenti scenici i micro movimenti ovviamente le facce i movimenti delle mani generalmente sono lasciati giustamente alla libera interpretazione dei cantanti questo dal punto di vista interpretativo dal punto di vista attoriale jagd ha fatto un buon lavoro e incbat ha fatto il suo lavoro francamente niente di particolarmente emotivo anche dal punto di vista dal punto di vista attoriale per cui ripeto anche per lui credo che valga la considerazione che il mercato di oggi è così e probabilmente prenderlo lasciare e se fosse e se fossi direttore artistico di un teatro evidentemente mi troverei anch'io a avere a che fare con queste situazioni e probabilmente anch'io come ricettando tutti gli altri lettori artistici me le farei andare bene e farei di necessità virtù anche la deformità di tonio non è stata particolarmente accentuata ma insomma un aspetto molto importante del personaggio che dovrebbe essere un gobbio un po un po storpio brutto insomma è una cosa che trasmette molto il dolore del personaggio tipo alla quasimodo di Notre Dame de Paris per capirci insomma rispetto invece tutto sommato a una persona normodotata insomma perché ovviamente il personaggio viene fuori in maniera diversa se non viene fuori tutto quel dolore derivante dalla deformità derivante dal fatto di essere un reglietto dal fatto di essere sempre rifiutato e allontanato e deriso comunque questo è mi è piaciuta molto Lola devo dire insomma la parte di Lola essendo una parte così piccola difficilmente insomma fa vedere in fa vedere cose particolarmente interessate fa sentire cose praticamente interessanti invece devo dire che Francesca di Sauro ha cantato bene secondo me ha cantato molto bene una parte ripeto poco gratificante per una cantante però che ha fatto molto bene anche dal punto di vista attoriale perché comunque ha miccato nella maniera giusta senza puttaneggiare come spesso molti registi fanno fare a Lola in una maniera sguaiata in una maniera assolutamente incoerente col libretto con la collocazione cioè due che in occasione a Sicilia sono amanti non è che lo sbandierano i 420 cercano di tenerla tenere la cosa un po un po nascosta giustamente e per cui in questo devo dire che lei è stata molto brava poi è con una bella ragazza insomma questo sicuramente aiuta quindi bene 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 passiamo al cast di Pagliacci Rinalungu che al netto del fatto che ha una certa avvenenza fisica importante è una bella donna insomma questo personaggio come Nedda aiuta soprattutto se come in questo caso abbiamo un bel Silvio e un brutto Cagno e quindi insomma quindi almeno questa cosa è molto più giustificata il fatto che lei oltre ai problemi di vita con Cagno lei lo voglia lasciare però anche lì secondo me ha fatto il suo lavoro ma non mi ha toccato non mi ha commosso particolarmente stessa cosa per Fabio Sartori che ha interpretato Cagno solido professionista che ha fatto bene il suo lavoro lui ha veramente il fisico di di Cagno e si è mosso anche molto bene anche un bravo bravo attore con una buona capacità scenica come dire però brividi non ne ho non ne ho sentiti Xinjuxiao invece ha interpretato Peppe con gusto anche lì come vale il senso di cosa da parte di Lola una parte talmente piccola che non è facile venire fuori però l'ho interpretata bene con gusto con garbo e quindi assolutamente promosso chi mi è piaciuto particolarmente invece è stato Matteo Olivieri nella parte di Silvio che secondo me è stato il migliore di questo cast di Pagliacci quantomeno della parte di Pagliacci ha cantato una bella voce bella pastosa con un bel legato poi anche lui anche lui un bel ragazzo si muove molto bene in scena insomma assolutamente credibile nel ruolo mi piacerebbe e spero di sentirlo prossimamente in altre in altri ruoli magari un pochettino più lunghi un pochettino più impegnativi veramente curioso di riascoltarlo per ora promosso a pienissimi voti coro e orchestra beh il coro resta una delle cose migliori di questo teatro veramente il coro della scala è un coro di primissimo ordine fatto da eccellenti artisti tutti molto bravi spesso ad assecondare non parlano necessariamente del recito di ieri sera spesso ad assecondare le richieste un po' balzane dei registi e in particolare assecondarle senza andare fuori musicalmente quindi bravi a loro e bravi al maestro del coro ci sono stati sì un paio di sporcizi un paio di ingressi non pulitissimi però decisamente peccati veniali coro in particolare per esempio nella parte nella seconda parte di pagliacci prima della commedia è stato veramente da applausi da applausi che non ci sono stati ma che il coro avrebbe assolutamente meritato perché è veramente stato imponente e impressionante l'orchestra ha suonato bene come sempre conosciamo l'orchestra della scala insomma è un'ottima compagine vero che queste sono due opere di repertorio ma insomma comunque in particolare pagliacci è molto insidiosa dal punto di vista tecnico e direi che l'orchestra ha suonato bene mi è piaciuta sempre molto precisa e molto attenta la direzione d'orchestra Giampaolo Bisanti che io non vedevo dirigere dal 97 come ho detto nella live di qualche giorno fa una valutazione duplice dal punto di vista di ascoltatore ho sentito una buona performance ha diretto bene ma lui è un signor musicista ripeto io lo ricordo ai tempi del conservatorio era stato uno dei direttori più promettenti della sua generazione e si è reato in scala qualche promessa e l'ha evidentemente anche mantenuta diciamo che io mi ricordavo beh non dite ma nel 97 forse anche cambiato un direttore molto più preciso e molto più asciutto anche nella gestualità io l'ho visto molto agitato in certi punti quasi un pochettino scomposto e non so però la mia sensazione non ho avuto l'impressione che l'orchestra abbia veramente del tutto apprezzato la collaborazione con lui secondo me in un paio di stacchi ci sono state delle incomprensioni tra cosa voleva lui e cosa era abituato a fare l'orchestra tenete presente che anche in un teatro grosso come la Scala una produzione di due opere di repertorio non è che si abbiano mille lettore e se Pagliacci come ho detto è da puntista tecnico abbastanza difficile da suonare parecchi cose che vanno risolte che però ci si augura che l'orchestra del livello della Scala le abbia già risolte ex ante Cavalerie è un'opera molto rischiosa non è un'opera difficile ma è un'opera molto rischiosa che ha almeno una dozzina di punti veramente pericolosi dove è un attimo andare fuori e dove ci vuole una guida ferma e sicura questi punti sono stati ben risolti assolutamente quindi non ci sono stati scollamenti un paio di piccole cose ma anche questi ma anche questi peccati veniali però ho avuto veramente l'impressione che in un paio di punti il direttore abbia chiesto delle cose diverse da come l'orchestra era abituata a fare e quindi non so se questa cosa può avere influito sulla l'impressione che ho avuto io quindi mia personale di non un grandissimo feeling fra direttore e orchestra però insomma la performance è stata assolutamente ben fatta mi è piaciuto molto l'intermezzo di cavalleria suonato molto bene diretto molto bene anche anche se con l'organo incredibilmente forte cioè sembrava quasi un concerto per organo accompagnato all'archi invece che un concerto d'archi accompagnato dall'organo e boh non ho capito se è un problema di livello o se è un problema di che cosa o se è stata una scelta voluta io spero di no perché l'organo nell'intermezzo di cavalleria è una spezia è un sapore deve essere certo preponderante e predominante però questo era e secondo me ha rovinato un'ottima esecuzione dell'intermezzo altrimenti la prova però che un direttore affronta quello che sta dirigendo con sicurezza lo si ha quando un direttore fa un rallentato senza suddividere lui l'ha fatto diverse volte significa che certo questa conosce molto bene il repertorio e questa come dire un filo aiuta però anche da parte del direttore è sintomo evidentemente di sicurezza e di grande conoscenza dell'opera che sta dirigendo per cui quando vedete un rallentato fatto dal direttore senza che il direttore suddivida quella frase beh vuol dire che che il direttore sa quello che fa e quindi da questo punto è senza dubbio è stato anche apprezzato dal pubblico anche c'è stato un paio di bui questi vengono un po' non voglio dire sorpreso però ecco non me li aspettavo ecco non me li aspettavo però nel compresso secondo me è una buona direzione assolutamente ecco ho trovato un po' troppo veloce l'ingresso dell'area di Alfio proprio l'introduzione prima dell'inizio dell'area molto veloce dalla parte in contratempo insomma che è anche molto rischiosa per poi arrivare all'ingresso di Alfio molto molto rallentato e questa cosa mi ha un po' destabilizzato secondo me il rapporto di metronomo tra l'introduzione e l'area era a mio modo di vedere sbagliato e sproporzionato e sproporzionato però questo è scelta il direttore che ovviamente non vanno contestate più di tanto mi è invece sorpreso che l'area di Alfio non abbia avuto applausi e un'area del genere che proprio tira l'applauso e anche nei pezzi più più famosi il fatto che ci sia stato questo momento di gelo mi ha un attimo sorpreso poi però ripeto poi la prestazione però del di Engbatt è stata assolutamente gradita dal pubblico un pochettino meno sottoscrive bene spero di essere stato abbastanza esaustivo se riuscite a trovare dei biglietti andate a vedere questo spettacolo se no guardate nei streaming supportate sempre la lirica perché comunque c'è sempre bisogno andate a teatro andate alla scala ma andate anche nei teatri più piccoli perché questo insomma l'opera lirica è un patrimonio dell'umanità tra l'altro ed è anche un patrimonio italiano che dobbiamo assolutamente preservare iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto c'è la possibilità da qualche tempo di abbonarsi per avere dei contenuti extra se ne avete piacere e noi ci vediamo alla prossima recensione e comunque al prossimo video non mancate